Salve a tutti, questo video lo faccio per convincere più persone possibili a abbandonare gli shapefile e usare solo ed esclusivamente, naturalmente nei limiti del possibile, solamente database. In questo caso particolare parlerò di spatialite o in altri contesti, in altre situazioni più complesse, usare per esempio posti cis. Allora, vediamo come vi posso convincere. Allora, ho questi due shapefile, sono dei dati di partenza questi qua, un reticolo vettoriale, in questo caso ho generato 144 reticoli e 144 rettangoli, sono poligoni, di lato un chilometro per un chilometro, quindi l'aria è un chilometro quadrato. Su questo ho fatto generare dei punti casuali, sono mille punti all'interno. Allora, prima cosa da fare, passiamo a spatialite, quindi creiamo subito un database spatialite. Allora, come si fa? Si può fare in tantissimi modi, ma quello più semplice è quello di far comparire qua il browser panel, quindi tasto destro, browser panel, e vi compare qua sotto il browser panel. Andate su spatialite, questo qua, tasto destro, creare database. database. Lo salvate, essendo un semplice file, lo salvate dove volete, io sul desktop ve lo chiamo db Luca, ok? db Luca B, lui sa chi è. E lo salvo. ok, ora questi due shapefile li importo all'interno di questo database ok, quindi vado su db manager special light, da qua faccio nuova connessione e vado a cercare sul mio desktop l'ho chiamato db loca eccolo qua, apri ora lui l'ha messo qua da qualche parte io ho 3000 database database l, la l di luca dov'è? c'è 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 db db luca eccolo qua quindi se lo selezioniamo con questa freccetta importiamo i dati punti casuali, importiamo i primi punti scusate, aggiorna, punti casuali questo non li chiamo punti, li chiamo point punti allora qua io modifico la chiave e a me piace chiamarle pk questi qua sono punti, li chiamiamo pkp così ci ricordiamo che è la chiave primaria dei punti la colonna geometrica lasciamo così il sistema di riferimento va bene creiamo sempre un indice spaziale in modo tale da velocizzare alcuni processi e facciamo ok ok secondo per fare il reticolo aggiorna a me piace scrivere sempre tutto piccolino quindi reticolo reticolo anche qua chiamo pkr che sta per reticolo la colonna geometrica va bene crea indice spaziale ok 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 vedete sono entrambi qua quindi la prima cosa che faccio li importo qui dentro allora gruppo quello lo chiamo db sl special light ora io qua dentro mi importo questi due questo e questo quindi seleziono uno aggiungere la mappa seleziono il reticolo aggiungere la mappa quindi questo possiamo chiudere e quindi qua dentro abbiamo questi due questi punti qua mi copio la lo stile copia lo porto qua incolla e anche questo qua copia stile e me lo spiaccico in questo ed incolla perfetto questo rimuove che non mi interessa più questo qua rimuove perché non mi eccoci qua questi qua sono dei punti come vedete qua anche dal pop up che compare vedete c'è scritto db luca ecco qua bene ora apriamo la tabella tributa dei punti vedete qua c'è il pkp che ho aggiunto io la colonna nuova questa è quella che era prima nello shapefile e quando vado il reticolo la stessa cosa pr e pk eccetera eccetera bene bene ora io preferisco passare ora a special like gui abbandonare un attimino qgis e passiamo a special like gui e da lì faremo una bellissima query eccoci qua questo è special like gui allora devo connettere il database quindi o clicco su questo iconcino oppure su file connetti e andiamo a cercare su sul desktop db luca e questo apri ed eccolo qua qua ci sono i punti e qua c'è il reticolo ok bene per vedere i punti tasto destro qua vedete edit table e quindi qua abbiamo tutti i punti le varie colonne qua c'è la geometria bene ora vediamo di scrivere la query che ci interessa allora la query che ci interessa guarda guardate come è semplice io voglio una query in modo tale che mi faccia questo 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 processo che mi prenda dal reticolo il PKR del reticolo e me lo trasferisca nei punti però me lo deve trasferire con una condizione ben precisa nel senso che tutti i punti che ricadono in un reticolo devono avere lo stesso id quindi basta fare una semplice query con l'intersezione ok quindi qui qua scrivo prima select adesso lascio così passo al secondo from è sempre così non vi immaginate che ci sia from from significa quali tabelle tabelle tabella punti che la chiamo P invece di ogni volta scrivere punti scriverò ora solamente P virgola e l'altro R piccolo lo chiamo R in modo tale che lo chiamerò sempre R ok qua sotto metto una bella condizione where la condizione where nel senso cosa è che deve succedere affinché si verifichi questa query deve succedere che st occorre una funzione spaziale st intersect con la s finale si rendono l'accetta intersect st intersect è un'intersezione quindi una verifica st intersect mi dice vero o falso ok 1 0 deve fare l'intersezione tra che cosa tra le geometrie delle due tabelle quindi scrivo P Geom perché il campo dei punti il campo geometrico dei punti si chiama Geom stessa cosa per il reticolo si chiama Geom virgola R punto Geom e chiudo parentesi e questa è un'intersezione quindi la condizione è che queste due geometrie si devono intersecare appena si interseca cosa deve fare quindi nella tabella di output cosa voglio vedere quello che voglio vedere lo devo scrivere su select su select voglio vedere tutti i punti tutte le caratteristiche dei punti P della tabella punti quindi per prendere tutte le caratteristiche basta che scrivo P punto asterisco e mi prende tutto mi prende PK Geometria ED ok questo faccio virgola voglio vedere dalla tabella reticolo voglio vedere solamente il PK questo mi basta non voglio vedere il PKR non voglio vedere altre cose quindi qua scrivo R punto PKR voglio vedere solamente questo ok e abbiamo finito avviamola zoom ecco qua istantaneamente in qua c'è scritto in quanti millisecondi se non erro sono 392 millesimi di secondo c'è neanche un secondo c'è stato e ha generato questo questa qua è una query in questo caso è una query ok per farvi capire ora ancora la potenzialità mettiamo caso che io volessi sapere ora per ogni rettangolo per ogni rettangolo quanti punti vi ricadono partendo da questa da questa stessa guardate come è semplice questa qua è una tabella quindi se questa qua la racchiudo tra parentesi scusatemi la racchiudo tra parentesi parentesi iniziale parentesi finale e questa qua la chiamo as t1 è un'altra tabella ok faccio invio e qua scrivo nuovamente select e voglio un raggruppamento e in questo raggruppamento voglio vedere per ogni pkr il numero di punti che vi ricadono quindi qua io voglio vedere t1 t1 pkr pkr perché questa volta scusate sempre in minuscolo t1 pkr pkr t1 questa volta qua scusatemi punto t1 perché la tabella punto è il campo t1 è tutta questa tabella tutta questa select poi voglio che mi faccia un conteggio quindi count molto semplice asterisco più da asterisco e fatto questo qua quindi voglio vedere questa deve prendere i dati quindi qua devo scrivere from deve prendere i dati da questa tabella e da questa tabella cosa deve fare deve fare un raggruppamento quindi grow up by mi deve raggruppare secondo questo che è il tk pr contro copio contro v cioè il pkr non altro che l'identificativo del reticolo ok poi se questo io lo avvio avvio quando c'è stato? mezzo secondo in mezzo secondo ecco qua mi dice questo è il tk questo qua se vogliamo per farlo più comprensibile qua scriviamo as possiamo scrivere identificativo reticolo così apposto di count questo qua as conteggio ok abbiamo di nuovo ecco qua identificativo reticolo quindi qua mi dice nel reticolo 1 ci sono 3 punti nel reticolo 2 7 punti andiamo a vedere se è vero andiamo a vedere se è vero allora questo è il primo no? 1 2 3 ok il secondo c'erano 7 3 e 3 6 e una 7 mi sembra di una cioè vi rendete conto della potenza di special light comunque noi ora cancelliamo tutto questo perché non ci interessa e ritorniamo alla nostra query questa qua avviamola e questa qua quella di prima ora questa qua io voglio che mi diventi qua un'altra tabella ma una tabella intesa come vista come VIEV quindi gli devo aggiungere un piccolo comando qua sopra qua sopra devo scrivere create quindi create VIEV diamo il nome della vista come la chiamiamo io solitamente metto una V davanti piccola naturalmente V e V come la chiamo questa punti punti reticolo così punti reticolo e poi AS vedete questa semplice scrittura qua mi crea ora la vista ok avviamo e ha creato la vista se io qua gli dico io aggiorno refresh mi ha aggiornato la vista ora qua però bisogna stare attenti perché bisogna stare attenti perché come vedete qua questa qua è una semplice tabella bisogna ora creare o meglio registrare la geometria la dobbiamo registrare questa geometria per registrarla occorre vediamo se già ce l'ho scritto qua è un altro semplice script per inserire questo è questa è teoria però la teoria bisogna saperla e io qua non ce l'ho non ce l'ho fatemi capire se ce l'ho oppure la vado a recuperare pe 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 tra tutte queste non ce l'ho un attimo blocca la vado a recuperare poi ripartiamo allora ho recuperato lo script questo è uno script che non ricorderò mai a memoria è questo qua perché bisogna per registrare la geometria registrare la geometria cosa significa significa che dobbiamo inserire nei metadati e in particolare nella geometria di colonna come vedete qua se andiamo su tabella vedete qua non è registrata quindi dobbiamo registrarla per registrarla dobbiamo utilizzare questo infatti che è l'ho perso basta per insert into vf anzi vf geometri column scusate non è qua ma è su vf vf geometri column qua vf geometri column se facciamo edit table vedete è vuota ora io con questo scriptino qua lo aggiungo qua e poi siamo apposta allora qua praticamente la prima stringa è solamente di descrizione di nuovo me l'ha cambiata allora quindi qua gli stiamo dicendo inserisce in questa tabella che è questa qua vf name vf name noi l'abbiamo chiamata v.reticolo quindi qua dobbiamo scrivere semplicemente questa v come ho scritto punti retico mi scrive dentro maiuscolo questa tastiera punti retico questo questa parte qua questa sto facendo in questo istante della registrazione il qbook di Luca di Sandro Furieri non c'è descritto o meglio c'è descritto ma non è descritto bene cioè ci manca quest'ultima parte qua l'uno il re questa parte finale non c'è perché è un po' vecchiotto il qbook allora qua abbiamo detto cosa ho scritto qua reticoli v.reticolo è questo qua v.reticolo esatto poi qua la vf geometry si chiama geom quindi la chiamo geom vf row wind qua dobbiamo mettere il pkp pkp qua dobbiamo mettere ftable name cioè da quale tabella deriva la geometria la tabella deriva da punti quindi qua dobbiamo scrivere punti 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 e punti qual è la geometria dei punti si chiama sempre geometria e qua sono lettura ok basta fare aggiungi e lui lo ha aggiunto se facciamo un bel refresh vedete qua è comparso il mondo e quindi questo significa che la vista è stata registrata ed è come se fosse una vera e propria geometria ora andiamo a fare dei bellissimi giochi in QGIS qua è sempre qua è bello registrato qua e da qua vado a caricare connetti la vista vedete che qua la vista vi aggiungi ora questi punti qua vecchi a me non mi interessano più per adesso li spengo i punti sono questi vedete questi qua sono punti che li legge da questi punti qua da questa tabella li legge se io vado qua vedete Pk è questo qua bene ora vi faccio vedere come questo qua si aggiorna in automatico vedete qua qua c'è il pkp l'id e il pkr questi sono mille punti ok altra cosa che vi faccio vedere in automatico anzi no vi faccio vedere i punti sono mille no mille punti e qua il reticolo mille punti vedete ora io aggiungo un punto uno a casaccio non mi interessa quindi vado su punti questo qua e aggiungo un punto a casaccio dove è qua aggiungi nel reticolo uno aggiungo uno vedete pk il pk ok e faccio ok e salvo siamo qua ok aggiorno vedete è diventato blu e come mai è diventato blu oh eh eh e come mai è la vista questa questo qua mostra e mostra mille vabbè qua il problema è vi faccio vedere la tabella perché qua QGIS non non fa il refresh in automatico vedete qua mille e uno o mille mille e uno oh non so il tecnico del dell'ottantanovesimo non so perché è più diciamo così più attivo di tutti e ne registra quattro punti in più uno è questo ok uno è questo ok un altro è questo ok e un altro è questo ok salvo e chiudo e sono diventati mille e cinque e questo qua il refresh non funziona lo lasciamo stare se vado ne ho aggiunti quattro qua più uno là sono cinque quindi dovrebbe essere mille e cinque mille e cinque vedete questa è la vista vi sono qua dentro oppure mettiamo caso che non so perché questo non lo spiego non so perché questo punto non è qua ma lo dobbiamo spostare ok sposta questo punto qua lo devo spostare è qua questo punto non è qua ma è qua c'è sempre all'interno di questo giusto salvo e chiudo se accendo questo faccio un'aggiorna vedete questo è qua questo è qua oppure cosa che potrebbe accadere questo punto non è detto che appartenga a questo ma appartenga a quest'altro ok ora per farvi vedere che questo cambio funziona metto l'etichetta su questo l'etichetta sulla vista sulla vista metto l'etichetta mostra etichetta e l'etichetta metto io il pkr ok vedete qua 88 88 di fatto spostare un attimino più scusate il video sta diventando lunghissimo ma a mio avviso è interessantissimo eccolo qua 89 va bene fatemi cambiare però il reticolo pkr ok questo qua lo facciamo lo facciamo rosso e oltre al rosso lo facciamo bello grosso questo qua vedete questo è il numero del rettangolo mentre questo 89 sono i punti vedete ora io magicamente sposto questo un punto mettiamo caso c'è stato un errore e sposto questo punto qua questo punto 77 e lo sposto non è più non appartiene a questo rettangolo ma al 76 giusto quindi vado qua e lo sposto lo metto qua dentro ok salva vedete è diventato 76 e com'è sta cosa beh prendo questo non era qua ma era qua ok salva 77 come prima era 89 vedete questa è la dinamicità delle query dinamicità delle query ora mi blocco perché altrimenti la cosa si allunga di parecchio ciao e spero di avervi convinto sul abbandonare se possibile gli shapefile e passare a special light passate a special light ciao